Sicuramente a livello istituzionale è stato fatto ben poco per arrivare al raggiungimento di una verità. Se ci siano stati elementi di colpa, elementi di dolo o coinvolgimenti più alti, questo sicuramente non devo essere io a stabilirlo. Solo so sicuramente che queste anomalie, queste gravità nella condotta di chi doveva gestire le indagini e i processi è stata sicuramente funzionale a uno dei più grandi depistaggi che la storia di questo paese abbia mai conosciuto. Nessuno, dico nessuno, ha ritenuto di dover dare la qualche minima giustificazione a quello che è stato fatto, neanche dal punto di vista umano, neanche dal punto di vista morale. La sua sensazione è che cosa nostra ha fatto tutto da sola o in qualche modo è stata aiutata da mandanti occulti? Io rispondo con una frase che mio padre diceva sempre e secondo me questa per me è la risposta alla domanda che lei mi sta facendo. La mafia mi ucciderà quando altri glielo permetteranno.